Un'appassionante serie rivolta alla caccia alla migratoria, sia in Italia che oltre confine. Se vengono noi facciamo barbe e capelli. Una tecnica per specialisti, ricca di curate e abbattimenti spettacolari, per vivere con intensità le emozioni di queste avventure venatorie. Bravo! Caccia Doc, dal 13 gennaio ogni mercoledì alle 21 su Caccia, canale 235.